Nel 2016 è stata determinata una delibera di giunta con la precedente amministrazione che appunto a fronte a me di un suicidio di un collega aveva determinato che recependo un decreto ministeriale della salute determinava il fatto che gli agenti di nuova nomina e quelli già in essere avrebbero dovuto e ripetere annualmente una visita specifica per determinare le attitudini psicofisiche appunto per l'assegnazione e il mantenimento dell'arma. Da oltre otto anni queste visite non sono state mai fatte. Una situazione che si trascina da anni quella che i sindacati della UIL Funzione Pubblica denunciano. Gli agenti di polizia locale Padovani non hanno la possibilità di avere visite mediche specialistiche annuali che certifichino l'idoneità a maneggiare un'arma. Per questo chiedono che Palazzo Moroni intervenga. L'attivazione immediata non possiamo più aspettare. L'amministrazione non si può permettere il lusso di aspettare ancora. Ringraziamo l'amministrazione nel momento in cui ci sono dei dialoghi con l'azienda ospedaliera perché mi pare di aver capito che hanno individuato loro come interlocutore ma il decreto ministeriale prevedeva anche l'ospedale militare o altre strutture tipo anche ospedali della Polizia di Stato. Nel momento in cui però tutto questo si deve materializzare entro il breve tempo. Non c'è più tempo da aspettare. Noi diciamo basta, a troppa attesa si doveva definire subito. Entro gennaio i nostri pareri si dovevano già definire e dovevano essere già in essere le visite specifiche per il personale di Polizia Locale. Dal Comune per voce dell'assessore Diego Bonavina però rispondono che entro giugno verrà siglato un accordo con l'azienda ospedaliera e dai primi di luglio verranno attivate le visite. L'ospedale mi ha comunicato che verrà sottoscritto questo protocollo entro fine giugno e quindi dai primissimi giorni di luglio verranno riprese queste visite che sono tre visite specialistiche, lo ricordiamo perché le visite quelle come qualsiasi altro dipendente del Comune di Padova vengono fatte regolarmente. Queste finalmente riprenderemo a farle con soddisfazione credo anche di tutti gli agenti della Polizia Locale Grazie a tutti.